ragazzi e ragazze buongiorno eos 2024 cominciamo a presentare le nostre novità voleva tenere tutto nascosto ma è più forte di noi già specializzati nel mondo caccia come abbigliamento antistrappo dal gilet la camicia con le maniche in kevlar la giacca spartacus il nostro best seller come giacca antistrappo antispino sia per i beccacciai sia per i cinghialai porta radio tasche ampie manica staccabile così siamo arrivati a sviluppare un pile un pile ipertecnico molto morbido elasticizzato con tutta la protezione sulle maniche praticamente tutto antistrappo però libertà del movimento carniere dietro tutto molto morbido tutto con le tasche di modo che anche nel bosco una volta che la tasca resta chiusa non si perde mai niente questo è un prodotto che presenteremo a eos mi raccomando non mancate venite a trovarci passate perché non è finita qui ciao a tutti come sempre sempre tre a